Come noto l'ordine del giorno reca l'audizione di Lucia Borsellino e Fabio Trizzino, legale di Lucia Manfredi e Fiammetta Borsellino, a cui do il benvenuto, che ringrazio per essere qui, non soltanto perché questo è un passaggio fondamentale nella storia d'Italia, ma perché so che questo ha un coinvolgimento anche umano importante e quindi so la difficoltà e capisco la difficoltà, per cui i ringraziamenti sono doppi. Voglio ricordare che la seduta odierna si svolge nelle forme di audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione, che i lavori potranno proseguire in forma segreta a richiesta delle auditi oppure dei colleghi e ovviamente in tal caso non sarà più consentita la partecipazione da remoto e verrà interrotta la trasmissione via streaming sulla web tv. Qualora la presente audizione non dovesse concludersi nella giornata odierna, il suo seguito nonché gli interventi dei colleghi saranno soggetto di una seduta che ho intenzione di convocare la prossima settimana. Questo lo dico a garanzia della necessità di non contingentare in nessun modo né i tempi per gli auditi né per i commissari. A questo punto, ringraziando ancora della presenza e chiedendo ai commissari l'attenzione dovuta al tema, io do direttamente la parola a Lucia Borsellino. Saluto tutti i presenti e saluto e ringrazio la Presidente Golosimo per questa opportunità. Io sono qui anche in rappresentanza di mio fratello Manfredi e di Fiammetta Borsellino, che attraverso me ringraziamo anche lei, Presidente, non soltanto per aver invitato la mia persona, ma anche per aver consentito l'audizione di mio marito, l'avvocato Fabio Trizzino, che è anche legale, che rappresenta me e i miei fratelli, insieme con l'avvocato Vincenzo Greco del Foro di Palermo, nei processi che riguardano la strage di Via D'Amelio come parti civili presso il competente tribunale di Caltanissetta. Essere qui per me oggi è un onore, ma anche un onere non indifferente, per l'impegno che circostanze come questa ci richiedono sotto il profilo emotivo. Parlare di fatti estrettamente riguardanti la mia famiglia e quindi la mia vita ci costringe in occasioni come questa a mettere a dura prova la nostra sensibilità di fronte a fatti che devono riemergere chiaramente dalla nostra memoria, per cui sono sempre delle incursioni che a volte destrutturano la faticosa ricerca anche di un equilibrio interiore che abbiamo perseguito in tutti questi 31 anni, che ci separano dalla morte di mio padre. Detto questo, dico anche che in quanto figlia di Paolo Emanuele Borsellino, avendo convissuto con lui, insieme con mia madre Agnese Piraino e ai miei fratelli Manfredi e Fiammetta, fino all'ultimo giorno della sua vita, che è stata stroncata a Palermo in Via D'Amelio il 19 luglio del 92, noi siamo testimoni diretti di vita vissuta con mio padre. Nel senso che abbiamo condiviso e supportato le sue scelte, lo abbiamo accompagnato in ogni dove e abbiamo assunto su di noi anche i rischi che queste scelte comportavano, in maniera assai consapevole. Rischi che direi si sono estesi anche post-mortem, in quanto tutto questo non è bastato per metterci a riparo, seppure ai suoi figli, anche da tentativi di delegittimazione. In quanto testimoni, siamo stati ascoltati di fronte all'autorità giudiziaria in diverse occasioni. Per quanto riguarda la mia persona, sono stata convocata per la prima volta solo a partire dal 19 ottobre 2015, nell'ambito del processo cosiddetto Borsellino-Quater, cui è seguita poi un'altra audizione il 14 luglio 2016, sempre nell'ambito dello stesso processo, per poi il 3 dicembre 2018 ritornare in aula insieme con mio fratello Manfredi, nell'ambito del processo cosiddetto depistaggio contro gli ex poliziotti Mario Boe ed altri, afferenti al nucleo investigativo denominato Falcone Borsellino. Prima di allora soltanto mia madre è stata sentita nel marzo del 1995, eravamo ancora al processo Borsellino 1, e successivamente nell'agosto 2009 e nel gennaio, se non vado errata, del 2010. In tutte queste circostanze, le nostre testimonianze hanno messo a fuoco momenti di vita vissuta con mio padre, soprattutto negli ultimi 57 giorni, che si sono intercorsi tra le stragi di Capaci, in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Moruvillo e i tre agenti della loro scorta, e la strage di Via D'Amelio, in cui persero la vita anche cinque agenti di scorta insieme a mio padre. e poi in particolare mia madre ha testimoniato in ordine anche a confidenze direttamente ricevute dal marito, ancorché egli avesse ritenuto proprio di trasferirle nei modi come era consueto fare. Dico ciò perché finché è stato in vita, mio padre ha sempre cercato di tutelare gli altri componenti del suo nucleo familiare, in quanto il suo rischio era verosimilmente potenziato dall'avere un nucleo familiare composto da altre quattro persone che molto spesso camminavano con lui. Dico ciò in quanto le nostre testimonianze non potevano chiaramente scaturire da conoscenza diretta di atti o documenti inerenti al lavoro di mio papà, in quanto sia mia madre per l'enorme rispetto che poneva nei riguardi del lavoro di mio padre e il dovuto riservo che papà teneva sul suo lavoro, e noi figli, poco più o poco meno che ventenni all'epoca dei fatti, non potevamo certo conoscere il contenuto di atti e documenti. Oggi col senno di poi me ne è rammarico, perché avrei voluto offrire un contributo molto più significativo come figlia, ma ancora più come cittadina. Ma evidentemente avrei fatto anche più fatica ad ottenere l'equilibrio che siamo faticosamente riusciti a raggiungere, perché chiaramente per dei figli poco più che adolescenti venire a conoscenza diretta anche di documenti o atti inerenti la vita lavorativa di papà e quindi anche elementi di dettaglio molto più approfonditi ci avrebbero turbato non poco, e vi è più anche nelle fasi successive dopo la sua morte. Dico questo anche con riferimento ai contenuti dell'Agenda Rossa, di cui mia madre peraltro è stata la prima testimone nei giorni immediatamente successive il compiersi della strage. La mamma ha testimoniato sull'esistenza di questa agenda che pur non conoscendone chiaramente i contenuti, ma capiva perfettamente quanto questo strumento fosse prezioso dal momento che mio padre non se ne separava mai e lo vedeva spesso annotare su di esso appunti e impegni di lavoro. Il ritrovamento dell'Agenda Grigia nella mia abitazione è stato frutto infatti della pervicacia mia e di mio fratello che soltanto dopo la morte di papà abbiamo cercato in un'ottica estremamente collaborativa con l'autorità giudiziaria di perlustrare ogni angolo della nostra abitazione pur di reperire atti e documenti che potessero essere utili ai fini investigativi. Oggi siamo qui per offrire ancora una volta, non me ne vogliate, un tributo di riconoscenza ai miei genitori per averci donato la vita ma soprattutto anche ai familiari delle vittime con le quali ci accomuna questo dolore e poi anche per i nuclei familiari che faticosamente abbiamo costruito successivamente per i nostri figli perché vedete queste tragedie si può accettare sicuramente una morte per causa naturali perché si ha l'opportunità di accompagnare un proprio caro fino alla fine. Nel caso di mio padre un accompagnamento c'è stato ma sicuramente non quello che avremmo voluto. Ed è proprio la strage del 19 luglio che ha assegnato profondamente la nostra vita non solo del mio nucleo familiare originario ma anche dei nuclei familiari che abbiamo costruito successivamente stendendo i propri effetti in maniera indelebile e avversibile anche sulle nuove generazioni a partire dai nostri figli. Quindi sono qui oggi perché a parte le date che vi ho ricordato nelle quali abbiamo reso testimonianza noi abbiamo anche cercato in tutti questi anni avendo fiducia piena nelle istituzioni in quanto la nostra vita è stata permeata al senso del più alto rispetto delle istituzioni così come ci ha insegnato nostro padre avendole assunte sempre come presidio principale di garanzia, di legalità e giustizia. Tuttavia l'esserci resi conto che il corso delle indagini sulla strage nella quale mio padre perse la vita stesse per rivelare il determinarsi di gravissimi devastaggi così come poi si è accertato si siano determinati già il giorno stesso a partire dal giorno stesso del compimento della strage ci ha portato a impegnarci più direttamente non solo con la partecipazione diretta alle udienze dei processi che si sono svolti al Tribunale di Caltanissetta insieme con i nostri legali ma anche con la formulazione di precise circostanziate istanze volte alla ricerca della verità che abbiamo rappresentato sia in sedi pubbliche per voce anche in un certo periodo di mia sorella Fiammetta ma anche in tutte le possibili sedi istituzionali anche le più autorevoli. Oggi siamo qui per riproporre anche queste istanze volte alla conoscenza piena della verità sulle strage di Diana Melio e chiediamo che le componenti statuali competenti a vario titolo e livello possano far piena luce senza pregiudizi e senza condizionamenti su quelli che sono stati i particolari dettagli della vita di mio padre documentati in atti e testimonianze dirette che hanno caratterizzato gli ultimi momenti della sua vita soprattutto nei 57 giorni tra le due stragi. Chiediamo questo perché siamo convinti dopo aver assistito in tutti questi anni al percorrere anche di piste investigative alcune delle quali sono giunte alla loro definizione giudiziaria ci siamo convinti che le altre piste che sono state solcate non hanno del tutto o addirittura in alcuni casi assolutamente considerato atti e documenti e prove testimoniali che potessero fornire degli elementi a nostro avviso indispensabili per comprendere il contesto nel quale mio padre operava e il profondo stato di prostrazione e di isolamento nel quale ha vissuto fino agli ultimi giorni della sua vita e di cui, ripeto, siamo testimoni. quindi ciò che chiediamo nel massimo rispetto dell'operato delle istituzioni senza alcuna pretesa di volere sostenere una tesi piuttosto che un'altra perché noi non siamo tecnici lo sono i nostri avvocati tecnici del diritto lo sono i magistrati ma certamente non ho i figli non ci compete dicevo pur non volendo sostenere alcuna alcuna tesi e non avere la pretesa di conoscere la verità quella che vogliamo offrire oggi è una ricostruzione operata su una mole di atti documenti e testimonianze che grazie al lavoro di mio marito e ringrazio per questo la Presidente per avere appunto potuto consentire l'audizione del nostro legale vorremmo rassegnare degli elementi a questa commissione che possano essere suscettibili di ulteriore approfondimento con rigore logico che questi documenti meritano per lo scopo che ci siamo prefissati e che credo trovi in voi un obiettivo comune lo vogliamo dicevo perché si faccia chiarezza perché il diritto alla verità non sia un'ossessione della famiglia Borsellino o degli altri familiari delle vittime il diritto alla verità è un diritto che appartiene all'intera collettività e noi pensiamo che sia doveroso consegnare alle nuove generazioni la narrazione fedele a ciò che è realmente accaduto in quella fase drammatica della storia del nostro paese oltre che della nostra famiglia grazie mille a lucia Borsellino io credo che non ci sia nulla da aggiungere se non che il compito che queste ultime sue parole ci affidano è un compito gravoso ma che se fatto con tutti i criteri e con tutte le modalità non farà altro che dare il miglior servizio all'italia perché il diritto alla verità e alla piena luce è sì un diritto di chi oggi è qui ha udito ma è un diritto di tutta la comunità nazionale e di tutti coloro in questi anni sono morti per mano della criminalità organizzata per cui Lucia certamente noi non abbiamo nessun esito già scritto noi vogliamo fare piena luce soprattutto partendo da quello che fin qui non è stato detto e per questo lascio la parola all'avvocato Trizzino sì grazie io intanto volevo salutare la presidente Colossimo la ringrazio per avermi invitato ringrazio voi tutti che con pazienza ma data l'allecatezza dei temi che dovrò trattare questa pazienza si impone perché vedete nella ricostruzione che mi accingo a fare ho seguito diciamo un metodo un metodo rigoroso di indagine proprio perché il questa ricostruzione dei fatti per certi versi potrà in qualche modo sollevare più che un interrogativo perché vedete Paolo Borsellino io me lo immagino in questo momento dietro di me con una foto con quella foto gigantesca in cui si trova da solo nei corridoi del palazzo di giustizia un palazzo di giustizia che era diventato per lui e ve lo dimostrerò un luogo un luogo in cui probabilmente non si trovava più a proprio accio tant'è vero che a distanza di anni poi abbiamo saputo che appunto come diceva Lucia al culmine della sua prostrazione psicofisica di quei giorni lo ebbe a definire un nido di vipere è un modo di esprimersi del dottor Borsellino assolutamente inconsueto chi ha conosciuto Borsellino sa che viveva il proprio ruolo di magistrato ma soprattutto viveva l'istituzione magistratuale con il massimo del rispetto possibile quindi dovremmo cercare di capire perché quell'uomo a un certo punto definì il suo ufficio un nido di vipere d'altra parte vi devo dire che l'interesse per la ricostruzione che io vi farò nasce anche da un dato puramente come dire di strategia comunicativa vedrete che questa indagine si fonderà in gran parte rigorosamente su dichiarazioni provenienti da testi qualificati perché colleghi ma non soltanto per questo perché la diciamo attendibilità intrinseca del dichiarante verrà sostanzialmente riscontrata estrinsecamente dall'incrocio di altre dichiarazioni nel frattempo raccolte e che quindi convergono tutte logicamente verso l'accertamento della circostanza da dimostrare è stato un lavoro ecco dicevo c'è un problema di strategia comunicativa perché quando viene riportata in tutti questi anni è stata riportata la testimonianza resa dalla signora Agnese dalla vedova Piraino in cui Paolo Borsellino al culmine anche qui della sua del senso di morte incombente che ormai era per così dire inevitabile poi vedremo se era veramente inevitabile questa morte se questo sacrificio era evitabile e dice a un certo punto io se voi chiedete se voi cliccate su google frasi famose di Paolo Borsellino vi sono anche delle copertine di libri che riportano questa frase lui dice alla moglie e la moglie ne fa testimonianza alla procura della repubblica di Caltanissetta mi uccideranno ma non sarà una vendetta della mafia la mafia non si vendica forse saranno mafiosi quelli che materialmente mi uccideranno ma quelli che avranno voluto la mia morte saranno altri ebbene è stato costantemente espunto censurato in questa definizione il riferimento ma quelli che avranno voluto la mia morte saranno i miei colleghi ed altri i miei colleghi se noi incrociamo quindi questa confidenza del dottor Borsellino con la testimonianza del 2009 riconfermata nel 2011 dalla dottoressa Alessandra Camassa e dottor Massimo Russo in cui ci dicono che il dottor Borsellino definisce il suo ufficio un nido di vipere noi allora dobbiamo andare a cercare dentro l'ufficio della procura di Palermo per vedere se allora si possono in atto condotte che in qualche modo favorirono quel processo di isolamento delegittimazione e indicazione come target e obiettivo di Paolo Borsellino che sono diciamo quelle condizioni essenziali che hanno sempre preceduto gli omicidi eccellenti a Palermo e quindi gioco forza andare a vedere rigorosamente epistemologicamente attraverso un metodo rigoroso se già nel 1992 vi erano elementi sulla cui base ricostruire le dinamiche comportamentali che avevano potuto giustificare quell'affermazione incredibile per chi ha conosciuto il giudice Borsellino che lo ha portato a definire il suo ufficio un nido di vipere ebbene da questo punto di vista è stato per noi un dolore immenso incommensurabile avere scoperto che già dal luglio del 1992 esistevano dei verbali dell'audizione dei magistrati della procura di Palermo in cui vuoi per la vuoi per la vicinanza rispetto al fatto eclatante cioè la strage vuoi perché in quella procura vi era un malessere che covava da tempo i magistrati di allora furono sinceri e privi di qualunque freno inibitorio nel racconto delle dinamiche che messe in atto dal procuratore Giammanco che resero di fatto impossibile la vita di un magistrato valoroso e valente come il giudice Paolo Emanuele Borsellino La cosa gravissima che io denuncio in questa sede è che il dottor Pietro Giammanco non è mai stato sentito nell'ambito dei procedimenti per strage Giammanco è stato sentito dalla procura di Caltanissetta nell'ambito di altri procedimenti di cui parleremo più avanti relativi alla cosiddetta illecita divulgazione di quello che giornalisticamente viene chiamato il rapporto mafia-patti ma che io tecnicamente definisco comunicazione notizia in reato così definita annotazione relativa alle attività di polizia giudiziaria esperita in merito ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso strutturalmente inserita nell'organizzazione denominata Cosa Nostra tendente ad acquisire la gestione o comunque il controllo delle attività economiche di concessioni di autorizzazioni appalti e servizi pubblici nel territorio della regione Sicilia organamente e giornalisticamente detto dossier mafia-appalti cercheremo quindi attraverso questa ricostruzione di ancorare su dati certi inoppugnabili così come deve fare lo storico non solo il giurista qui siamo in sede di ricostruzione storica e questo è come dire non me ne voglia la presidente il significato che in ambito processuale in qualche modo non si è riusciti ad avere la verità quindi ci è toccato spostare il piano della ricostruzione sul versante storico ma proprio per rendere questa ricostruzione la più stringente precisa possibile i canoni applicativi e il metodo epistemologicamente seguito da me nella ricostruzione è come se fossi in un ambito strettamente processuale quindi con i limiti derivanti per esempio dall'attendibilità delle dichiarazioni di chi le fa e vi posso fin da subito dire che è stato mio dovere nella ricostruzione che vi riproporrò innanzitutto proporvi dichiarazioni che hanno superato il vaglio delle corti d'assise fino anche in Cassazione ho evitato anche la estrapolazione frammentaria di una dichiarazione da un verbale piuttosto che un'altra perché questo a volte costituisce elemento che può generare confusione se non si porta il carattere completo della dichiarazione perché magari nel corso di una sentenza una dichiarazione viene riportata ma appena sopra appena sotto quella dichiarazione viene smontata quindi le dichiarazioni che io vi proporrò e che dovrò leggere qualche volta perché vi rendete conto che dietro questa mia attività c'è un lavoro massacrante la lettura di 19 sentenze sulla strage di Via D'Amelio la lettura del rapporto dei ROS 900 pagine dell'informativa SIRAP altre 600 dell'informativa Caronte altrettanto verbali verbali della commissione non so neanche io quante cose ho letto e allora proprio per rendere la mia ricostruzione onestamente attendibile vi dico che laddove ci saranno contrasti laddove le dichiarazioni vengono diciamo ci sono elementi di contrasto io li farò presenti e sulla base poi di altri elementi che andremo ad incrociare da questo incredibile da questa incredibile messe di atti proporrò una conclusione logicamente accettabile ma credetemi solo sulla base di un criterio invalso nella giurisprudenza in relazione all'interpretazione del 192 del codice di procedura penale sono contento di essere qui perché vorrei ricordare una citazione di Sciascia Sciascia commentando una dichiarazione alla Camera del 26 febbraio del 1980 commentando la relazione di minoranza dell'onorevole Nicolai ebbe a dire io sono stato intervistato a Palermo dalla televisione francese e la televisione francese mi ha chiesto perché io avessi dubbi sui lavori di una commissione parlamentare antimafia Sciascia dice ma poteva se fosse venuta la televisione italiana aver risposto ugualmente come ora vi dico Sciascia dice assolutamente io non ho mai messo in dubbio è un dibattito mai sopito quello ancora oggi attuale circa il fatto che la nostra presenza qui abbia un significato importante io ritengo che sia per noi un momento di passaggio istituzionalmente fondamentale e Sciascia dice no io non ho mai voluto dire che i lavori della commissione non sono importanti anzi le dirò di più ci sono cose utili si evince per esempio chiaramente che i marescialli dei carabinieri e i marescialli di pubblica sicurezza quasi sempre hanno fatto il loro dovere ma è più in alto che non si è fatto quello che si doveva fare fatta questa citazione e date queste premesse l'oggetto della della nostra ricostruzione che ripeto una ricostruzione così che vuole offrire a voi spunti per un approfondimento vuole dimostrare sostanzialmente una cosa che si è sempre in questo diciamo che è stata un po' negletta trascurata benché le sentenze le sentenze passate in giudicato Borsellino Ter Borsellino Quater in particolare hanno sempre posto l'accento sulla l'interesse di Paolo Borsellino sulla scorta del pregresso interesse di Giovanni Falcone sull'indagine appunto denominata mafia appalti per capire l'importanza e le potenzialità investigative di questo dossier vorrei sostanzialmente fare un piccolo darvi qualche piccola coordinata di contestualizzazione storica cioè nel momento in cui si calano le stragi di Giovanni Falcone di Paolo Borsellino e le indagini del De Ross il 92 si apre con la conferma in Cassazione della sentenza del maxiprocesso nel febbraio 92 accadono due episodi importanti totalmente divaricati totalmente diciamo non assimilabili in una prospettiva diciamo perché avvengono una a nord e l'altra a sud cioè abbiamo il 17 febbraio 92 se sbaglio qualche data è documentale ma capite bene quante date devo tenere a mente viene arrestato Mario Chiesa il presidente del Pio al Belgo Trivuzio gli vengono trovate nel suo ufficio due mazzette 50 milioni nel cassetto e poi 10 milioni in una busta che gli era stata consegnata dall'imprenditore delle imprese di polizia che messosi d'accordo con la polizia giudiziaria guidata dal dottor Antonio Di Pietro appunto organizzano il blize e lo arresto di un flagrante gli tenta in maniera abbastanza diciamo ridicola di lanciare nel water quella busta e di accampare diciamo delle scuse per evitare l'arresto in flagranza che quei soldi erano roba sua e che non c'entravano niente con le mazzette ebbene dalla mazzetta di 10 milioni nel novembre siamo arrivati alla mega tangente Enemont questo rapporto a mio giudizio nella sua imperfezione so che non era perfetto ma adeguatamente sviluppato il rapporto era molto di più che una mazzetta esso adeguatamente sviluppato avrebbe mirato al cuore del sistema vi è un'altra data importante il 24 febbraio Riina subisce l'ulteriore batosta quella definitiva cioè la condanna per il processo di Emanuele Basile e lì c'è un tentativo di avvicinamento da parte del notaio Ferraro con il giudice Scaduti per cercare di ammorbidire la sentenza e devo dire che il giudice Scaduti per fortuna parla con il dottor Borsellino il quale gli consiglia di fare una relazione di questo tentativo di corruzione e grazie a quella relazione Scaduti in qualche modo ha evitato secondo me guai grossissimi però Paolo Borsellino ritornando a casa disse alla moglie me la faranno pagare perché la vicenda di Basile mi perseguita voi dovete sapere che l'odio di Salvatore Riina nei confronti di Paolo Borsellino è antecedente a quello nei confronti di Giovanni Falcone Borsellino era odiato era consigliato da Riina scusando l'espressione un grandissimo cornuto inavvicinabile l'altro evento importante avviene il 12 marzo del 1992 l'assassino dell'onorevole deputato Salvo Lima la storia si è incaricata di definire diciamo il ruolo di Rima nello scacchiere siciliano il 5 aprile del 1992 il corpo elettorale il corpo elettorale democraticamente democraticamente dà il primo colpo serio al sistema partitocratico di fatto dando appunto la possibilità alla Lega di raggiungere il 25% in Lombardia e il 9% su base nazionale che vi prego di non considerare il 9% di allora con riferimento ai tempi di oggi perché il 9% di allora in cui ancora il sistema morente ma pronto a giocarsene tutte prima di crollare pronto a giocarsene tutte le carte prima di crollare il 9% era un era un grimaldello devastante che nel coagulare il malcontento degli italiani stava dando l'ulteriore colpo a un sistema partitocratico già in crisi per effetto dell'onda lunga derivante dal crollo del muro del Berlino e quindi degli equilibri politici che avevano dal 1948 retto l'Europa e quindi l'Italia in particolare il 28 aprile del 1992 Cossiga si dimette l'ultimo anno di presidenza della Repubblica di Cossiga si connotò con l'effetto dell'onda lunga della caduta del muro di Berlino per una serie di picconate al sistema e gli si dimette perché sa che sta arrivando lo tsunami delle indagini di mani pulite sa che non può nel semestre bianco avere alcun potere di formalizzare una crisi di governo sa che c'è un popolo italiano inviperito da quello che man mano emerge dall'inchiesta milanesi e quindi ha la necessità di fare il passaggio di consegne onde consentire ad un Presidente della Repubblica nei pieni poteri eventualmente di sciogliere e formalizzare una crisi qualora Presidenti di Consiglio incaricati o o in carica potessero essere raggiunti da avvisi di garanzia prima di arrivare il 28 aprile c'è qualcosa che devo ricordare c'è l'omicidio il 4 aprile del 1992 del maresciallo Guazzelli ad Agrigento lo devo ricordare perché lo troveremo a questo farò riferimento nel corso della mia relazione il 23 maggio del 1992 muore Falcone e si sblocca l'impasse parlamentare per l'elezione del Presidente della Repubblica il 28 giugno del 1992 giura il governo Amato il 10 luglio 1992 di notte il governo Amato per impedire che l'Italia fuoriesca dal sistema monetario europeo con un decreto legge dispone il prelievo forzoso dai conti correnti degli italiani di una somma irrisoria per carità lo 0,06% ma quegli italiani a cui viene fatto il prelievo forzoso se avessero scoperto che i politici erano invece lì a rubare a sostanzialmente utilizzare la spesa pubblica gli enti pubblici economici come una gallina dalle uova d'oro da cui sostanzialmente ricavare gli elementi per il sostentamento di un sistema degenerato e arricchimenti personali voi vi rendete conto che ci sono ragioni serie di allarme per reagire nei confronti di magistrati che volevano appunto scoprire quel malaffare questi sono dati che vanno considerati prima ancora di entrare proprio perché dal punto di vista storico la fila del muro di Berlino il crollo del muro di Berlino ha degli effetti che non si rivelano immediatamente ma come dire si diffondono in un arco di tempo più o meno lungo e in Italia diciamo l'ondata è arrivata intanto nel 1990 con le inchieste su Gladio la rivelazione dell'esistenza di un sistema di controspionaggio quale Steinbeind e poi tutto il resto cioè il sistema è costretto a tirar fuori tutti gli elementi che se giustificabili in un'ottica di contrapposizione tra Nato e Paesi dell'Est ora non sono più diciamo giustificabili allora cosa resta resta un sistema che gli manca solo che i cittadini italiani scoprono attraverso delle indagini fatte seriamente che il punto di incontro tra mafia politica ad alti livelli imprenditoria anche soprattutto di rilevanza nazionale è quello dell'erosione della spesa pubblica questi sono elementi che a mio giudizio fanno diventare recessiva l'applicazione di paradigmi interpretativi volti per esempio a rinfocolare le versioni di destra o di sinistra perché gli elementi le versioni di destra o di sinistra aveva una sua giustificazione in una logica sostanzialmente di contrapposizione fondata sul vecchio equilibrio il vecchio equilibrio è finito e qui si sta rivelando in tutta la sua oscena rappresentazione le degenerazioni del sistema partitico della partitocrazia Paolo Borsellino era solito dire che la mafia la soluzione cosa nostra e la politica hanno in comune una cosa il controllo del territorio bene la lettura del rapporto mafia-parti e la materializzazione a nostro sommesso avviso di questa tregua di questa pace di questo accordo è chiaro che è chiaro che essendoci dall'altra parte l'associazione mafiosa ogni tanto essa fa valere il suo peso di associazione ma la cosa quando vi dicevo che il rapporto per certi versi è imperfetto lo dico nel momento in cui dà una visione pan-mafiosa di questo diciamo della illecita gestione perché in realtà l'esistenza dei comitati d'affari sono un prius rispetto all'associazione mafiosa tant'è vero che gli stessi magistrati giustamente nella richiesta di arresto del 25 giugno del 1991 riconoscono che l'avvicinarsi della mafia alla gestione illecita degli appalti è un climax cioè si passa da fasi di parassitismo cioè faccio parare come dire il pizzo per il territorio in cui insiste l'opera pubblica da realizzare ad un sistema di infiltrazione infiltrazione sempre più preponderante ma se qualcuno deve infiltrarsi l'acqua piovana per infiltrarsi deve avere un tetto da cui infiltrarsi e in cui infiltrarsi bene gli accordi tra politici e grandi imprese precedono il sistema delle combine precede il protagonismo il coprotagonismo di Cosa Nostra perché è un disegno egemonico specifico di Salvatore Rina quello di pretendere visto che il sistema dei partiti sta crollando di pretendere attraverso l'istanza economica agganciando i grandi imprenditori nazionali di raggiungere le sedi del potere l'aleatorietà l'aleatorietà dei punti di riferimento conseguente al processo irreversibile di disgregazione del sistema partitocratico impone alla mafia di ridisegnare i collegamenti e meccanismi di controllo perché la politica non può essere più il campo della mediazione questo è andato bene nel vecchio sistema quando tutti chi da una parte chi dall'altra perfini diversi avevano interesse a ottenere il controllo del territorio la politica in termini di clientelare assistenzialismo clientelare di controllo dell'elettorato la mafia in termini di controllo del territorio to cure in una interazione costante reciproca di totale tentativo di plasmare in tal modo una società civile capace di andare oltre le dinamiche e i contrasti all'interno di una stessa organizzazione politica in altri più precisi termini quel sistema di potere che si era in qualche modo consolidato da circa 30 anni in Sicilia dagli anni 60 fino alle stragi del 92 andava bene a tutti io vi leggerò se volete una un interrogatorio un'intercettazione tra Domenico Lacavare consigliere dell'amministrazione della SIRAP e Emanuele Macaluso in cui si parla dello studio di viasciuti di Ciancimino in cui tutti si recavano a prendere la loro parte di tangente e ridono nell'ambito di quella trascrizione io trovo tutto questo sommamente immorale lo trovo sommamente immorale la convenzione di escludendo mi riguardava il partito comunista aveva una convenzione di escludendo cioè nel senso che la mafia non aveva un'ideologia non ha mai avuto un'ideologia ma sicuramente non ha mai detto votate per il partito comunista il partito comunista aveva diciamo attraverso le cooperative il sistema delle cooperative un modo indiretto di partecipare alla gestione della torta la convenzione escludendo me era per il movimento sociale destra nazionale in quanto se c'è una cosa che ha sostanzialmente sempre unito in Sicilia in particolarmente mafia clero politica è come dire l'antifascismo dall'altro e l'anticomunismo dall'altro e poi c'è da dire che tutto questo come vedete allora ci fa comprendere che cosa ci fa comprendere innanzitutto l'importanza del dossier ripeto è un atto imperfetto non è non possiamo considerarlo un rapporto perfetto così come non era perfetta la mazzetta di di chiesa però alla fine si è arrivata la megatangente Enemont bisognava starci sopra d'altra parte Falcone che ne sollecitò la consegna nel febbraio del 91 disse in un dibattito che bisognava in qualche modo riaffinare le metodologie di indagini anche perché ormai disse esiste una centrale unica non centrale mafiosa no parla di centrale unica degli appalti ho risentito la registrazione perché ho letto da qualche parte che si parlava di centrale mafiosa no Falcone dice centrale unica degli appalti in cui sono coinvolti tutti e lo dice a Castello Utiveccio nel marzo del 1991 mi interessava fare questa premessa perché è importante calare l'interesse prima di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino per il rapporto del ROS perché altrimenti non si capisce l'importanza dell'interesse stesso e dell'indagine e perché è possibile in un'ottica preventiva che siano stati entrambi assassinati nel caso di Borsellino l'elemento è ancora più importante laddove si consideri che l'accelerazione dell'esecuzione della strage non ha senso guardando agli interessi puri e semplici dell'organizzazione di Salvatore Reina voi sapete meglio di me che era in discussione la conversione in legge del decreto legge dell'8 giugno del 1992 con cui come secondo pacchetto di norme voluto da Giovanni Falcone finalmente si si dota la magistratura le forze dell'ordine e chi deve sul territorio combattere la mafia di un sistema di norme che forte dell'esperienza di Giovanni Falcone finalmente poteva contrapporre una certa efficacia nell'azione di contrasto ben introdotto il doppio binario procedurale venne introdotto il 41 bis e come sempre era successo in ragione di quella contiguità di quella commistione di cui parlavo prima tra forze di governo e mafia perché la mafia è sempre stata un antistato sì ma ha svolto più una funzione di complementarietà nell'azione di controllo come dicevo prima del territorio controllo della società civile io mi sono sempre chiesto da bambino ma perché perché Palermo diventa sempre lo sfondo per atti che non potevano accadere in nessun'altra parte dell'Italia Palermo è stato il luogo in cui si sono consumate delle tragedie che probabilmente nel momento stesso in cui venivano compiute si sapeva che l'opinione pubblica la società civile avrebbe assorbito il colpo e dall'altro le forze di governo in qualche modo continua a questo sistema malato avrebbero garantito quella sorta di camera di compensazione per un frazionamento della risposta legata ad una logica emergenziale e poi tutto ricominciava da capo la fine del sistema dei partiti introduce un elemento di aleatorietà ripeto per cui questo non è più possibile Rina lo capisce subito lo capisce nel 91 quando Falcone e Violante riescono a tramite Brancaccio a sottrarre il maxiprocesso affidando al collegio di Arnaldo Valente sa che non ha più sa che il sistema ha i suoi problemi c'è il malessere c'è il malessere la società ampi settori della società civile non accettano più perché stanno male economicamente c'è uno scollamento c'è una crescita finalmente dico io della società civile rispetto a un fenomeno che ha distrutto le magnifiche sorti progressive di questo paese e finalmente la società civile comincia a reagire il corpo elettorale ha reagito così come i 5 stelle nel 2017 hanno ottenuto il 30% e oltre giustamente perché il corpo elettorale in una democrazia matura quando le cose vanno male decide non necessariamente bisogna passare da chissà di quali strategie eversive eversive nel senso politicamente eversive solo politicamente eversive questo è un punto chiave questa analisi di contesto va fatta perché dobbiamo capire innanzitutto perché Borsellino in qualche modo a un certo punto arrivato alla super procura ecco stavo dicendo questo è un punto fondamentale non si può ammazzare Borsellino e sperare che lo Stato non reagisca quindi ci deve essere stato qualcosa di talmente talmente importante talmente importante per cui Rina va sopra gli interessi dell'organizzazione va sopra gli interessi dell'organizzazione e deve fermare i magistrati su indicazione su suggerimento di terzi deve fermare quei magistrati che possono mettere in pericolo il già morente sistema dei partiti che pensava in tal modo di poter evitare l'inevitabile doveva morire anche di Pietro non dimenticatelo doveva morire anche di Pietro quindi devono morire quei magistrati che hanno a che fare con inchieste che possono portare a disvelare il sistema marcio dei partiti che aveva sostanzialmente distrutto l'economia italiana e questo Borsellino lo capisce perché c'è una importantissima testimonianza resa da Di Pietro nell'aprile del 1999 nell'ambito del Borsellino Terra in cui parlando con Borsellino dicono dobbiamo trovare il sistema per fare parlare gli imprenditori questo è molto importante perché Di Pietro dice io attraverso gli imprenditori arrivo ai politici Borsellino dice no in Sicilia c'è cosa nostra gli imprenditori non è così facile farli parlare però dobbiamo trovare il sistema per farli parlare è molto importante che sia Di Pietro che Borsellino mirano ai politici indirettamente sanno che facendo parlare gli imprenditori sarebbero arrivati al sistema politico questo mi servirà nel corso dell'audizione quando dovrò sostanzialmente diciamo ritenere debole l'argomentazione secondo cui il rapporto del Ross non conteneva il nome di tutti i politici a parte che questo poi lo potremmo verificare punto per punto ma il punto non è il punto ha avuto un ruolo fondamentale ma devi trovare il grimaldello per arrivare al politico ed erano talmente convinti sia Di Pietro che Borsellino che il grimaldello sarebbe stato il politico solo che Borsellino non ha avuto scusate l'imprenditore solo che Borsellino non ha avuto il tempo di arrivarci fatta questa lunghissima premessa che era doverosa perché secondo me l'analisi di contesto va sempre fatta altrimenti non riesco a spiegare bene l'importanza della mancata valorizzazione di quel dossier già nel febbraio del 1991 ma Borsellino perché ritorna a Palermo intanto Borsellino ritorna a Palermo e prende possesso il primo marzo del 1992 nel suo ufficio perché è in qualche modo costretto da due necessità altrettante valide soprattutto ricongiungersi con la famiglia dopo che dall'agosto del 1986 svolgeva le proprie funzioni presso la procura come procuratore della Repubblica a Marsala dove ha svolto un lavoro estremamente importante sul fronte sia del contrasto alla mafia criminale quella militare che sul appunto fonte del contrasto degli interessi connessi all'illecita gestione degli appalti e questo è un punto fondamentale tenetelo a mente Borsellino conosce perfettamente il rapporto perché rispetto alla fase marsalese vi sono degli elementi che come raccontano rispetto alla riunione del 14 luglio che abbiamo scoperto essersi stata di recente fanno pensare che Borsellino avendo una profonda conoscenza del rapporto avendogli fatto delle investigazioni trasferite per competenza poi a Marsala con riferimento al 416 bis Borsellino potesse ollevare come ci dicono alcuni sostituti procuratori delle obiezioni rispetto alla non delle obiezioni delle richieste rispetto rivolte al dottor Guidolo Forte rispetto appunto agli esiti del giudizio richieste del mio giudizio nei confronti di Sino Olipera Falletta Morici Cascio Buscemi Vito ma lui ritorna arriva lì e arriva lì sapendo che ha a che fare con Gian Banco dice non ho alternativa perché la legge istitutiva del novembre del 1991 convertita poi nella legge 20 gennaio 1992 istitutiva della direzione nazionale mafia e della direzione distrittuale antimafia lo costringe ad andare a Palermo perché le indagini di mafia ora vengono accorpate presso la procura del capologo del distretto di corte d'appello cioè Borsellino a Marsala non avrebbe potuto condurre più indagini per mafia se voleva continuare il suo impegno come mafia avrebbe dovuto necessariamente operare da Palermo arriva a Palermo arriva a Palermo e il dottor Giammanco gli affida il coordinamento delle indagini sulla provincia di Trapa e Negrigento mentre il coordinamento delle indagini per la provincia di Palermo viene gestita dal dottor Vittorio Vittorio Aliquon cosa succede? è interessante perché dal verbale di queste audizioni che noi abbiamo scoperto che sono state diciamo tenute nel cassetto per quasi 30 anni non sono state riversate in nessun processo sulla strage di Vemeglio benché ci siamo attardati in 30 anni a ricostruire minuziosamente anche i respiri del dottor Borsellino in quei 57 giorni in questi verbali in cui finalmente abbiamo anche le sue confidenze a magistrati il suo dolore i suoi sfoghi questi verbali non ci sono stati messi a disposizione benché ecco come li ho scoperti benché ne ho trovato traccia nella richiesta di archiviazione della dottoressa Gilda Loforti con riferimento ad una dichiarazione frutto di un cattivo ricordo sbagliata del dottor Pignatone con riferimento alla riunione dell'8-10 luglio in cui si sarebbe parlato in cui Borsellino sarebbe stato informato dell'archiviazione ebbene a pagina 79 di quel verbale che finalmente siamo riusciti a trovare il dottor Pignatore dichiara che in quella riunione svolta tra l'8 e il 10 luglio si parlò delle archiviazioni e il dottor Borsellino quindi ne era al corrente piccolo particolare il dottor Borsellino dal 6 al 9 si trovava a Francoforte a Mannheim e poi si stiede a Roma fino al 12 luglio questo emerge dalla sua agenda rossa scusate la sua agenda grigia ed emerge come inconfutabilmente oggettivamente accertato nell'ambito dei processi sulla strage di Gadelia quindi il dottor Pignatore ricorda male Borsellino alla riunione o dell'8 o del 10 luglio non ci poteva essere perché era in Germania e il 10 era a Roma quindi noi scopriamo questi verbali li otteniamo e troviamo uno scrigno segreto attraverso cui decifrare finalmente tutta una serie di dati che ci erano stati consegnati come diciamo dati acquisiti e cioè si era detto che il procuratore già manca osteggiato Borsellino con riferimento alla delega per la gestione di Gaspari Mutolo bene noi tutti hanno detto questo all'interno di quei verbali trovate la specificazione di ogni singolo passaggio del dispiacere dell'amarezza dell'umiliazione del dottor Borsellino che deve chiedere lui che aveva fatto il maxiprocesso una sorta di aiuto a due giovani cioè Guidolo Forte e Gioachino Natoli di intercedere verso il capo perché lui ottenga finalmente la titolarità di un fascico atteso che Gaspari Mutolo aveva chiesto di parlare con lui e vi rendete conto che per noi è stato un colpo cioè nelle sentenze si dice vabbè l'ha osteggiato di qua e di là poi vado a leggere i verbali e c'è tutta la descrizione c'è la descrizione in cui dice eh beh ha telefonato Guidolo Forte ha telefonato Gioachino Natoli Paolo stai tranquillo la delega l'avrai ma stiamo parlando di Paolo Borsellino uno che aveva fatto il maxiprocesso e che in un paese diverso aveva prodotto no arriva lì e gli si dice no tu hai bisogno dell'intercessione di Iloforte o di Gioachino Natoli per ottenere la delega ma su questo io poi mi attarderò un poco perché è molto importante capire l'umiliazione l'amarezza di quell'uomo e qui mi dispiace io non voglio essere non voglio apparire come dire animato da chissà quale livore non è così credetemi è doloroso e non c'è sovrastruttura esplicativa che tiene rispetto a delle dinamiche che avvengono all'interno di un ufficio di procura che è il presidio della legalità noi possiamo tutti quanti guardare le cointeressenze guardare appunto tutte ricostruzioni possibili ognuna è legittima basta solcarla ma la realtà dei fatti è che Borsellino l'inferno lo ha vissuto nel suo ufficio e questo va detto agli italiani gli italiani devono sapere e ripeto la cosa più grave che Giammanco a Giammanco al dottor Giammanco è stato dato il commodus discessus il dottor Giammanco è l'unico magistrato che è stato costretto alle dimissioni per una lettera firmata anche da qui presente il senatore Scarpinato con cui in poche parole lo si costringeva alle dimissioni per la sua totale ormai diciamo impossibilità di restare in quell'ufficio ebbene ebbene il dottor Giammanco non è mai stato udito da un sostituto procuratore della Repubblica della procura di Tinebra a dire scusami cosa è successo perché i tuoi sostituti ti hanno mandato via e soprattutto ci spieghi la telefonata del 19 luglio del 1992 alle 7.15 atteso che dimostrerò che quella telefonata non riguardava la delega Mutolo che viene finalmente concessa il 18 sabato al dottor Borsellino ma riguardava finalmente la delega su tutte le indagini del comparto palermitano dove finalmente potere dare sfogo al piano investigativo volto a vivificare le inchieste di mafia a parti di cui all'incontro da vero e proprio Carbonaro alla caserma Carini del 25 giugno del 1992 con il colonnello Mori e con il capitano De Don bene la signora Agnese Borsellino il 25 marzo del 1993 dichiara dinanzi ad una corte d'assise mio marito riceve questa telefonata i rapporti con il dottor Giammanco erano pessimi la telefonata ha il seguente tenore non ho dormito tutta la notte da domani puoi avere le indagini su Palermo così la partita è chiusa Paolo Borsellino chiude il telefono dice alla moglie la partita è aperta e comincia a passeggiare nervosamente per il corridoio di casa tenete a mente questa circostanza perché io plausibilmente riuscirò attraverso il contenuto delle audizioni del CSM del 1992 a dimostrarvi che il dottor Borsellino per carità non è una verità io non porto verità porto elementi su cui poi ognuno farà le sue valutazioni io vi porto elementi dopodiché ognuno farà le sue valutazioni il dottor Borsellino ha dunque la delega su Palermo la mattina dello stesso giorno in cui viene ucciso come ho dichiarato in un'unica trasmissione giornalistica perché io tendo a fuggire le dichiarazioni giornalistiche per un motivo molto semplice perché quando le vicende sono complesse come queste vedete ci vuole una conseguenzialità giusto o sbagliata tra antecedente tra presupposti svolgimento e conclusioni un'intervista giornalistica non potrà mai consentire di spiegare così compiutamente questa vicenda allora il dottor Borsellino molto probabilmente ha preso sul conto del procuratore Gianmanco delle notizie così terribili che lo portano ad interrompere il flusso delle comunicazioni quindi a venir meno un pochino a quel principio importantissimo della procura per cui il procuratore aggiunto deve parlare con il suo procuratore capo e di questo devo dire che il dottor Borsellino ne ha parlato con il senatore Scarpinato ne ha parlato con Vittorio Teresi e ne ha parlato con Antonio Ingroia quindi tre magistrati di quella procura sapevano che con riferimento ad un'indagine specifica che collegava l'omicidio Lima alla strage Falcone Borsellino aveva riferito ad alcuni suoi colleghi che avrebbe gradito in qualche modo partendo dall'omicidio Guazzelli che alcune informazioni non arrivassero al procuratore capo ed effettivamente il senatore Scarpinato nel corso della sua audizione del luglio del 92 dice una cosa che è giusta cioè perché si trattava di Paolo Borsellino ma una cosa del genere non sta in piedi cioè io non posso stare dice in una procura in cui sostanzialmente esistono due procure sono l'uno contro l'altro armato però bisogna vedere chi ha attaccato e chi ha dovuto difendersi in questa contesa e chi si è difeso si è difeso per salvare se stesso da un pericolo imminente e grave che comunque non è riuscito ad evitare e quindi in pieno stato di necessità allora quello che rimane da questa da questa descrizione cos'è possiamo utilizzare tutte le sovrastrutture descrittive del contesto che ha prodotto ma come diceva Manzoni nel capitolo decimo la conversa non dovevate cercarla in Olanda a Meda ma dentro le mura del monastero con questo cosa voglio dire attenzione che dentro le mura del monastero vanno cercate le condizioni per la delegittimazione no? cioè capiamoci cioè per creare quelle condizioni che poi possono consentire ad altri di eseguire la strage Paolo Borsellino è un uomo solo un uomo avversato un uomo che è costretto a comunicare come un carbonaro e vi assicuro questo non faceva parte del suo bagaglio di conoscenze tant'è vero che quando arriva la procura dice a Ingroi io so che Gianmanco mi osteggerà ma non ho alternative ma poi io mi guadagnerò il mio spazio a poco a poco non metterò in atto la strategia di Giovanni Falcone che ha impattato il il Gianmanco anche se Giovanni Falcone lo vedremo analizzando le singole annotazioni dello suo diario Giovanni Falcone aveva motivi è stato umiliato grandemente da Gianmanco davanti a giovani sostituti pure dell'ordinaria un'altra figura Giovanni allora qui potete utilizzare tutte le possiamo utilizzare tutte le sovrastrutture ideologiche di grandi sistemi ma la sofferenza più grande è arrivata anche lì dentro e quello lì a meno che anche lì c'è sono allora andiamolo a cercare se Gianmanco agiva in nome per conto di qualcuno andiamolo a cercare ma non è più possibile perché Gianmanco è morto Gianmanco Gianmanco ha avuto il commodus discessus sotto ogni profilo è stato sentito per la prima volta nel 2017 ma poverino non era più in grado perché non stava bene e io ancora davanti a me la dolorosa immagine del procuratore Tinebra sentito al borsellino Quater che non stava bene stava malissimo e potevamo acquisire le dichiarazioni rese nel corso delle indagini ed evitare quella drammatica istruzione dibattimentale con la presenza di un uomo che tutti ricordavamo nel pieno dell'esercizio delle sue funzioni su cui poi magari ne parliamo perché insomma il depistaggio nasce anche lì allora dico di questo dobbiamo parlare anche agli italiani del nino di vipere io ci tengo particolarmente perché queste cose non accadono mai più io dico che anche l'istituzione magistratuale deve essere pronta non soltanto tutti gli altri ambiti dello Stato ma anche la magistratura deve essere pronta a guardare dentro di sé a quello che ha combinato in quel frangente della storia repubblicana perché tutti parlano che Borsellino ha morto Falcone sarebbe andato a fare il procuratore nazionale antimafia ma nessuno sa che il plenum del CSM tra il 15 e il 20 giugno del 1992 bloccò qualunque richiesta di riaprire i termini del concorso disse che Borsellino non aveva titoli e che non avrebbe sopportato l'ingerenza del potere esecutivo rispetto ad un concorso che era già sotto derivazione o quasi definito il CSM quando ci sono di mezzo Falcone e Borsellino è stato velocissimo pronto sempre sempre pronto e io non vedo non ho visto in questi anni la magistratura ragionare su come ha in qualche modo cannibalizzato i suoi figli migliori non ho mai sentito un mea culpa abbiamo sbagliato cosa abbiamo combinato non abbiamo capito niente niente di tutto questo quindi Borsellino dicevo a Trapani Agrigento non si lamenta dice vabbè mi conquisterò i miei spazi succede che muore Lima come ho detto lui arriva il primo e Lima viene ammazzato il 12 e allora anche lui viene coinvolto con tutti i procuratori giunti nelle quelle che sono le indagini immediate che conseguono un omicidio di quel tipo Borsellino però fa delle proposte e il paventato clima di ostilità che lui aveva confidenzialmente detto in tono ingroia si esprime in un assoluta non considerazione della sua richiesta di una rogatoria negli Stati Uniti per interrogare Don Massino Buscetta per capire quali erano le evoluzioni legate a questo omicidio e ricordo come se fosse ieri l'immagine preoccupata di Giovanni Falcone intervistato forse non mi ricordo da chi ma su Youtube si trova che dice preoccupatissimo da questo momento può succedere tutto perché erano talmente in grado di decifrare Falcone e Borsellino la realtà che si rabbuiò in quell'intervista Falcone è veramente rabbuiato sa che sta arrivando lo tsunami si lamenta anche Borsellino della inadeguatezza delle indagini patrimoniali in particolare sul patrimonio mobiliare di Lima dicendo che non poteva essere quello il patrimonio in termini di depositi dell'onorevole Lima l'inadeguatezza di questa l'intuizione di Paolo Borsellino relativamente all'inadeguatezza delle indagini in lo tempore fatte su Lima richeggerà nella famosa diciamo testimonianza di Antonio Di Pietro e Borsellino Ter che poi è stata ribadita anche nel processo trattativa in cui dice che lui riuscì a trovare nel novembre 93 in botte CCT 500 milioni che arrivavano da Cirino Pomicino a Lima e vedremo parlando di mafia appalti la centralità che aveva Lima nel sistema le cose cambiano per Borsellino con l'omicidio con la strage di Capaci a quel punto quella diciamo quelle competenze cominciano a stargli strette perché egli è colpito sul piano professionale è colpito sul piano umano e soprattutto ecco il punto egli è convinto che Falcone muore e ce lo dirà il 25 di giugno a casa professa muore perché non si voleva che ritornasse a fare il magistrato a fare le indagini che voleva fare e vi assicuro che il chiodo fisso di Falcone e questo risulta era mafia a parte e su questa linea di continuità si pone anche Paolo Borsellino tanto cioè vero che indagando su un fatto di sua competenza che è l'omicidio del maresciallo Guazzelli fatto avvenuto ad Agrigento quindi non c'era il problema di dovere in qualche modo chiedere la titolarità dei fascicoli era lui che aveva quella provincia e quindi poteva indagare ecco man mano che indaga e man mano che acquisisce alcune informazioni da una parte ve lo spiegherò nel corso di questa diciamo relazione da Catania certe informazioni che arrivano da Catania dall'altra certe informazioni che gli vengono rassegnate dai ROS apprende di una circostanza che appunto rivelerà soltanto ai dottori Scarpinato Ingroia e Teresi e cioè che Sino Angelo e Cascio Rosario si erano recati dal maresciallo Guazzelli per ottenere in qualche modo un trattamento di favore rispetto alle indagini di mafia appalti la cosa incredibile che l'episodio viene collocato ovviamente in un'eco precedente l'arresto del Sino che avviene il 9 luglio del 1991 il rapporto viene depositato il 20 quindi questo episodio si inserisce tra il 20 febbraio e il 9 luglio del 1991 e come faceva Sino a conoscere che vi era la necessità che la sua posizione all'interno del rapporto venisse in qualche modo ammorbidita il rapporto doveva essere segreto è un'annotazione una comunicazione notizia e reato perché lui prende l'iniziativa di andare dal maresciallo Guazzelli insieme a un altro soggetto di un certo spessore come Cascio Rosario per cercare di corrompere l'ufficiale il sotto ufficiale di polizia giudiziaria e ci dice Borsellino probabilmente appreso dai compagni di caserma del Guazzelli che la reazione di Guazzelli fu talmente furiosa rispetto a questo tentativo di 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 corruzione che uscito da quell'incontro il Sino si sentì male molto male gli venne da vomitare eccetera eccetera e che quindi si rivolse all'onorevole Lima per cercare di ottenere lì la protezione che gli era stata negata da Guazzelli ma la cosa assurda è che tutto questo Borsellino lo racconta senza sapere quello che succederà dopo quando lui è morto e cioè che quando l'ipera comincia a parlare o forse lo sapeva suppongo che lo sapeva a questo punto perché l'ipera quando comincia a parlare a Catania con Felice Lima la prima cosa che racconta è guardate che noi sapevamo tutto più o meno il contenuto del rapporto mafia appalti quindi il rapporto fu oggetto di una illecita divulgazione su questo c'è stato un procedimento che poi si è definito con un'archiviazione però resta la circostanza di fatto che gli indagati del rapporto mafia appalti erano a conoscenza delle risultanze compendiate nel relativo rapporto allora dicono Teresi dice in groia nei verbali della commissione del 1992 dato che noi non avevamo mai avuto prima di un anno fa noi non sapevamo niente di tutto questo niente cosa dice Borsellino ci dice fatemi una cortesia per me questa cosa va a Lima Lima viene ammazzato perché non riesce a garantire attraverso d'acquisto su Zamanco la copertura su mafia appalti tant'è che il dottor Vittorio Teresi onestamente nel 7 dicembre nel dicembre del 1992 nel raccontare questo episodio a Cardella che poi non lo so è finito nel dimenticatoio forse è sfuggito a me però anche lì il Vittorio Teresi il dottor Teresi non è stato chiaro e preciso come invece nei verbali ci dice no Paolo Borsellino pensava che Lima fosse stato ammazzato perché in realtà non era in grado di garantire diciamo l'associazione rispetto allo sviluppo delle indagini su mafia appalti e quindi accanto all'ammancato aggiustamento del processo accanto all'ammancato aggiustamento comunque dell'inchiesta mafia appalti vi era un motivo più che evidente agli occhi dell'organizzazione per far fuori appunto un amico che non era più in grado di svolgere il proprio ruolo ma queste sono diciamo intuzioni del dottor Borsellino io non voglio dire che è questa la verità io voglio dire che Paolo Borsellino aveva delle ipotesi queste ipotesi poi effettivamente rimandano sempre là sempre a questo benedetto rapporto del ROS incompleto imperfetto quello che volete ma Paolo Borsellino è convinto che lì vi sia una delle chiavi se non la chiave di spiegazione della strategia criminale in corso questo va detto non si può dire come ho letto una sentenza che è logico ritenere che Paolo Borsellino non conoscesse il rapporto mafia-appalti è un falso storico è un falso e lo trovate in tutti i verbali della commissione del CSM come atti più recenti ma lo trovate anche nelle sentenze che vi ho citato lo trovate in mandanti occulti bis la richiesta di archiviazione del 2003 perché nel frattempo cosa succede nel 97-98 si pentono Angelo Sina e Giovanni Brusca cioè nel 96 si pente Brusca però Brusca comincia essere creduto dal 98 in poi e guardate che quello che descrivono Sina e Brusca è che cosa attenzione noi temevamo che Borsellino si ponesse sullo stesso livello di Falcone e potesse in qualche modo scoprire il nostro disegno egemonico che era quello di arrivare al potere sedendoci al tavolino e soprattutto contando finalmente qualcosa in seno ai gruppi politici imprenditoriali di rivoluzione nazionale e ai grandi politici vogliamo arrivare a Roma e se ci pensate questo è molto in linea con la descrizione del contesto che io vi ho fatto perché nel momento in cui il sistema patitocratico crolla avviene qualcosa che si può dire la delocalizzazione cioè il controllo del territorio diventa sì importante ma visto che la società civile continua ad avanzare nel progresso culturale di contrasto io so che a livello locale ne controllerò sempre meno società civile e quindi quello che conta è poi entrare nel sistema delle combine dei grandi affaristi e da lì muovere le vere leve del potere che sono quelle finanziarie che poi raggiungono anche quello politico e in nuce tutto questo è perfettamente delineato nel rapporto del ROS del 1991 si vedono imprenditori che azionano con un'azione di lobbismo spregiudicato raggiungono Roma ottengono i finanziamenti rispetto all'ente appaltante lente appaltante appalta opere che non hanno alcun riferimento all'interesse della collettività e attraverso il meccanismo della perizia di variante si creano le provviste per tangenti corruzione e tutto quello che volete c'è un'intercettazione nell'informativa SIRAP ma che viene diciamo congegnata nell'informativa SIRAP ma le cui trascrizione erano già nel rapporto del 91 in cui Mimila Cavera che era il consigliere dell'amministrazione della SIRAP uno degli enti appaltanti parlando con il Ciaravino che era il presidente credo no non era il presidente era uno era il consigliere dell'amministrazione l'altro era una specie di amministratore delegato forse l'amministratore delegato poi vi spiego cos'è la SIRAP scusate sto facendo un po' sto andando a braccio perché vorrei cercare di rendere meno noiosa la mia esposizione la mia esposizione c'è un'intercettazione in cui Ciaravino ha il coraggio di dire il cui la cavera dice a Ciaravino fidatevi della mia memoria parolacce non finire dicendo io ho bisogno di 300.000 lire o i orno perché ho i miei lussi e i miei vizi e antichi e l'ima antichi e l'ombardo antichi e chisto antichi e quello cioè viene fondamentalmente delineato un sistema per cui l'ente appaltante la stazione appaltante è totalmente in associazione a delinquere con i politici e con gli imprenditori e poi c'è la mafia ma la mafia si inserisce dopo rispetto a un sistema che è già bello che è oleato da anni da anni è il progetto egemonico di Rina che cambia le carte in tavola perché la vecchia mafia ok si accontentava di quella diciamo dimensione parassitaria o lavori per conto terzi Rina nella sua volontà egemonica riesce a sedersi o meglio ambisce a sedersi al tavolino che è cosa molto diversa è cosa molto diversa da qui allora le famose cointeressenze con le imprese della Serafino Ferruzzi il ruolo dei fratelli Buscemi Salvatore capomandamento del passo di Rigano Nino Buscemi Lipari Giuseppe che nell'archiviazione del 13 luglio del 1992 vengono liquidate con tre parole tre tre parole tre e io non credo che mi dispiace e poi lo motiverò meglio io non potrò mai credere questa è una mia deduzione siamo in ambito storico lo posso fare io non potrò mai credere che Paolo Borsellino che aveva fatto il processo il maxiprocesso aveva quindi in qualche modo conosciuto le dinamiche sottostante la guerra di mafia e il ruolo di Salvatore Buscemi nel favorire la scalata rispetto al mandamento di passo di Rigano ai danni di Inzerillo avesse potuto mai e poi mai sulla scorta delle risultanze contenute nel rapporto del febbraio del 1991 accettare un'archiviazione rispetto attenzione alla partecipazione all'associazione mafiosa dell'Ino Buscemi e dell'Ipari Giuseppe qui Sino si incontrava costantemente in Viale Croce Rossa laddove esistevano le società di Provenzano i carabinieri danno conto di un'attività di osservazione di pedinamento costante di un angelo Sino che è costretto ad interloquire con l'Ipari Giuseppe con Gariffo che era il nipote di Provenzano Bernardo e quindi vedere sostanzialmente liquidata in due parole la posizione di Buscemi Antonino e di L'Ipari e su Buscemi dovrò sostanzialmente dare conto di una diciamo un'altra importante archiviazione accompagnata però da un'anomalia che io faccio l'avvocato da 30 anni cioè non ho mai visto per esempio che vengano smagnetizzate e soprattutto distrutti dei brogliacci guardate noi siamo riusciti finalmente a venire a capo del depistaggio di Via D'Amelio perché grazie ai brogliacci delle intercettazioni in quel di San Bartolomeo a mare del dicembre 94-95 recuperate nel 2019 siamo riusciti in qualche modo a meglio configurare le condotte per esempio di uno degli imputati perché distruggere i brogliacci di intercettazioni nell'ambito di un procedimento proveniente da Massa Carrara in cui un sostituto procuratore della Repubblica di nome Augusto Lama era riuscito a dimostrare le cointressenze dirette tra società del gruppo Ferluzzi e della famiglia Buscemi e soprattutto di Salvatore Nino Buscemi Bonura tutti soggetti appartenenti al mandamento di Passo di Rigano e soprattutto ricordiamolo quando Borsellino avrebbe assentito secondo alcune versioni all'archiviazione Salvatore Buscemi è definitivo da poco come condannato del maxiprocesso e Salvatore Buscemi sarà poi nel Borsellino ter condannato all'ergastolo come mandante della strage di via D'Amelio perché distruggere smagnetizzare le intercettazioni del fascicolo di Massa Carrara con provvedimento dell'uno allora la richiesta di archiviazione dell'uno giugno 1992 affirma poi segue la sì allora primo giugno il primo giugno richiesta 19 giugno il dottor Grillo accoglie la richiesta e il 25 giugno il dottor Grillo accoglie la richiesta di distruzione dei brogliacci scritto a penna cioè si ordina visto il potere del PM allora chiedete a qualunque sostituto procuratore della Repubblica di questo Paese per indagini di mafia quando e come a distanza di un anno si dispone la distruzione di brogliacci tanto ciò è vero che Paolo Borsellino di questa distruzione avrebbe chiesto conto se non fosse stato trucidato giacché il 30 giugno o il primo luglio del 1992 Leonardo Messina gli riferisce che la calcestruzzi S.P.A. è in mano a Salvatore Riina quindi Paolo Borsellino immagino avrebbe chiesto datemi il fascicolo per collegamento 371 CPP proveniente da Massa Carrara il 3591 barra il 35 poi vi do i numeri esatti e dice no guarda abbiamo distrutto i brogliacci abbiamo distrutto i brogliacci abbiamo sbagnetizzato le intercettazioni quando Leonardo Messina gli dice la calcestruzzi è di Salvatore Riina questa è dal nostro punto di vista una gravissima anomalia quando nel corso del processo di pistaggio e del processo di Avezzano per la querela a carico di Sanzonetti e Aliprandi abbiamo chiesto ai magistrati querelanti nel un processo e nell'altro come testimoni se ci fosse questa circolarità siccome sosteniamo che c'era una circolarità in seno alla procura di tutte le informazioni riguardanti questi fascicoli alla fine entrambi gli interrogati hanno detto di non avere alcuna notizia del fatto che c'era un procedimento che era stato trasmesso il 26 agosto del 1921 dal dottor Augusto Lama e poi se volete vi spiego fondamentalmente l'importanza di questo procedimento e hanno detto no ma noi non sapevamo niente allora qual è la circolarità dov'è la circolarità come vedete dunque vi sono troppi troppi elementi che fanno pensare che in qualche modo il dottor Borsellino su quelle carte non ci doveva mettere le mani troppi elementi perché il dottor Borsellino è costretto ad incontrare il capitano De Donno e il colonnello Mori che conosce un po' meglio per la prima volta proprio in quell'occasione lo conosceva di vista era molto più amico del generale Subranni Subranni che il 19 giugno del 1992 visto quanto il risultato grazie al maresciallo Lombardo tra l'altro riesce ad attingere delle notizie importanti circa il fatto che era arrivato il tritolo per Paolo Borsellino all'interno di questa informativa il generale Subranni individua i soggetti a rischio ci sono due carabinieri uno credo fosse il maresciallo Canale se non ricordo male poi c'era l'onorevole ministro Salvo Andò in allora appunto ministro della difesa e poi Paolo Borsellino nella lettera nell'informativa è interessante perché Subranni dice trasmetto a lei procuratore della repubblica dottor Giammanco tale informativa attinta da fonti diciamo carcerarie secondo cui è arrivato il tritolo per Paolo Borsellino perché lei quale responsabile attivi quello che deve attivare per un rafforzamento della tutela quello che volete insomma Giammanco non dice nulla a Borsellino Borsellino è pazzesco se ci pensate un attimo è pazzesco e nessuno ha mai chiamato il dottor Giammanco a dire perché non hai avvisato Paolo Borsellino Borsellino come lo sa lo sapete tutti il famoso incontro del 28 giugno del 1992 a Fiumicino in cui incontra la dottoressa Ferraro un incontro diciamo con la dottoressa Ferraro in qualche modo concettato perché lui veniva da Giovinazzo dove ha partecipato insieme alla consorte ad un convegno di magistratura indipendente e incontra l'onorevole Andò poi non mi farei dimenticare il contenuto del colloquio con la dottoressa Ferraro perché è estremamente importante loro andò incontro a Borsellino e mi fa oh dottore mi scusi cosa pensa c'è da preoccuparsi e lui dice ma di cosa di cosa come di cosa dice ma guardi a me è arrivata dall'ufficio del ministero hanno avuto l'informativa di subrandi che indicava me come possibile obiettivo di un attentato e io ho avuto rafforzata la scorta ho avuto le misure di sicurezza il livello delle misure di sicurezza nei miei confronti si è notevolmente innalzato Paolo Borsellino trasalì ma la cosa assurda come mi disse mia figlia oggi prima di venire papà non mollare perché la nonna è morta di dolore questa cosa andò gliela dice di fronte alla consorte Agnese Borsellino la quale ovviamente comincia a temere per loro comincia a temere per tutti perché fino magari al giorno prima imprudentemente erano saliti in macchina anche loro e Borsellino perfetto vedi che bel procuratore che c'ho amico di d'acquisto amico di Lima tant'è che il dottore Scarpinato giustamente nel verbale il senatore Scarpinato oggi racconta che fece di tutto giustamente dico io per impedire che il procuratore capo della Repubblica di Palermo dove andasse ai funerali di Lima quando a Palermo anche le pietre sapevano chi fosse Lima chi fosse Ciancimino e giustamente il dottore Scarpinato convinse ma non doveva neanche sorgere il problema dico io no convinse il procuratore Zamanco a non presentarsi ai funerali di Lima perché questo avrebbe significato disdoro totale nei confronti della credibilità di un intero ufficio di un intero ufficio cosa fa Borsellino ovviamente apprende questa informazione e l'indomani sappiamo dai processi chiede conto e ragione di questa gestione burocratica assurda imperdonabile umanamente non definibile secondo me del dottor Giammanco cosa fa fa dice tu io ho il diritto di sapere se io ho la mia famiglia siamo in pericolo ma mi sono limitato a trasmettere l'ex articolo 11 CPP all'autorità competente Dio santo c'era stata la strage di Capaci insomma tutti aditavano Borsellino come possibile vittima come il continuatore dell'opera di Giovanni Falcone e tu lo gestisci così nessuno ha chiesto conto e ragione di questo a Giammanco nessuno in magistratura i sostituti procuratori di allora hanno ritenuto di interrogarlo su questo non c'è un verbale in 29 sentenze in 19 dibattimenti durati anni anni in cui un magistrato della procura chieda conto e ragione di questo a Giammanco non è non è normale non è normale lo capiamo cioè lo capiamo tutti qua dentro ma attraverso i verbali del CSM abbiamo scoperto una cosa che non era mai apparsa nell'ambito delle delle 19 istruzioni dibattimentali fino ad esso celebrate per la strage di via D'Amelio e cioè che il 29 giugno del 1992 Paolo Borsellino andò da Giammanco anche per chiarire una cosa altrettanto importante che rappresenta anch'essa la materializzazione di quello stracismo irrazionale illogico funzionale alla sua umiliazione e delegittimazione professionale e cioè cos'era successo mentre Paolo Borsellino si trovava a Giovinazzo arriva un fax dalla procura della Repubblica di Firenze del dottor Vigna con cui si dice Gaspare Mutolo ha parlato con me per fatti legati ad un traffico di stupefacenti avvenuto nel mio territorio ora ha deciso di saltare il fosso e di cominciare a parlare ma unica condizione che ha posto è quella che visto che inizialmente voleva essere interrogato da Falcone ma Falcone in vita Falcone era il ministero non poteva più svolgere le funzioni diciamo di pubblico ministero muore Falcone ovviamente salta il fosso e con chi vuole parlare secondo voi? con Paolo Borsellino e ce lo dice Teresa Principato Teresa Principato nel suo verbale della commissione del 1992 fa è certo che voleva parlare con con Paolo Borsellino con chi doveva parlare? con Gian Manco? Paolo era credibile i pentiti non ci sono stati in questi anni perché questa procura è gestita da un da un capo che non è credibile Paolo è credibile è ovvio che quello si sceglie il pentito non dico io da avvocato che è una prassi sostanzialmente giusta ha ragione diciamo in termini astratti il procuratore già manca a dire il pentito non deve essere il collaboratore a scegliersi il magistrato ma in condizioni normali perché in condizioni diverse in cui tu hai fatto di tutto per rendere la vita impossibile a Paolo Borsellino e in cui hai umiliato precedentemente Giovanni Falcone la tua non è un'obiezione astrettamente è logica intellettualmente onesta è un modo per impedire che all'ex autista di Saro Riccobono capace come ci dice Leonardo Guadnotta del dicembre del 1998 nel processo Borsellino-Ter di disvelare i legami con il sistema politico della vecchia mafia perdente ok tu vuoi impedire a Paolo Borsellino di gestire i frutti di una collaborazione di un grosso collaboratore di gestizia in astratto in astratto la verità è che tu vuoi impedire a Paolo Borsellino di gestire quel collaboratore e ti inventi ti inventi una formula per cui questo è un passaggio fondamentale in cui chiedo spero di essere io in grado di dare la giusta diciamo interpretazione dei fatti così come si sono svolti non gli dà l'ostacolo per l'attribuzione della titolarità del fascicolo a Paolo Borsellino della gestione di Gasperi Mutolo viene individuata pretestuosamente senza tema di essere smentito viene individuata pretestuosamente da Giammanco nel fatto che il collaboratore parlerà di fatti di competenza del comparto palermitano e lui è invece coordinatore delle indagini su Trapani ed Egrigento diciamo in una in una dinamica normale ci può anche stare ma hanno appena ammazzato Lima Guazzelli hanno distrutto hanno sventrato un'autostrada per uccidere la prima delle torri gemelle di questo paese e cavillare richiamando questioni amministrative di organizzazione interna all'ufficio ritengo sia un fatto veramente altamente pretestuoso cosa succede? succede che il dottor Giacchino Natoli quando il dottor Borsellino si presenta la mattina del 29 in ufficio molto arrabbiato per l'informazione avuta dal ministro andò con riferimento alla mancata informazione dell'informativa Tisubranni sull'arrivo del tritolo Giacchino Natoli dice senti Paolo io ti devo dire una cosa cioè in deroga al meccanismo delle competenze io sono a trapani con te però Giammanco mi ha affidato la titolarità del fascicolo su mutolo Giacchino Natoli lo fa per dire attenzione io Paolo io non centro niente cioè io guarda mi trovo a subire le vizie di una scelta del capo che individua in me ma io Paolo non centro niente non ti venga in testa di pensare che io sono stato io Paolo dice ma ci mancherebbe va nella porta accanto che è quella del procuratore Vittorio Aliquò effettivamente il fascicolo porta l'assegnazione di Vittorio Aliquò dottor Guido Loforte e dottor Giacchino Natoli il dottor Borsellino prende questo fascicolo e vada Giammanco quindi le questioni scopriamo per la prima volta attraverso la lettura dei verbali del 1992 che le questioni affrontate quella volta non erano come abbiamo sempre creduto una ma due non c'è solo l'informativa omessa ma anche l'attribuzione venendo meno al criterio che gli stessi pretestuoso si era dato per impedire a Borsellino di prendere quel fascicolo l'attribuzione ad un magistrato competente su Trapani dello stesso fascicolo che reclamava Borsellino non fosse altro perché lo chiedeva anche lo stesso collaboratore quindi lo si sarebbe messo nelle condizioni forse di essere più tranquillo nell'esposizione dei fatti ovviamente l'incontro tra Giammanco e Borsellino noi sappiamo due cose fino adesso sapevamo una cosa ecco poi facciamo una pausa vi leggo questa piccola parte perché è importante perché è importante no scusate io no perché siamo stanchi no no lo so io mi sono permesso in maniera del tutto non c'è problema prego dico siccome vedevo può essere che c'è un po' di stanchezza io posso andare fino a domani mattina eh questo sia chiaro come io avvocato come detto all'inizio quando lei finisca questa parte di ricostruzione poi sospendiamo e riprendiamo in altra seduta quando lei dico solo questo particolare perché è molto importante il particolare fondamentalmente è questo noi sappiamo da Agnese Borsellino che Paolo fu talmente il dottor Borsellino fu talmente duro nel confronto con il dottor Giammanco che sbatté il pugno sulla scrivania e si fece male questo era l'unico resoconto che noi avevamo della giornata del 29 se non che grazie alla dottoressa Enza Sabatino riusciamo finalmente ad avere il racconto di come Paolo Borsellino visse lui quell'incontro ed è un racconto che veramente poi si dice perché i figli a volte devono stare lontano dalle carte è facile è facile è facile è facile quando si tratta di altri qui c'è un padre c'è un padre un giudice che ha dimostrato di non tenere famiglia un puro un uomo attorno al quale tutti dovremo trovare la forza di ricreare uno spirito di identità nazionale Paolo Borsellino ha condotto una via crucis e non ha pensato al tengo famiglia no no è andato fino in fondo al suo sacrificio nonostante tutto e se l'Italia a mio giudizio non decide di affrontare essa stessa questo dolore immenso tutte le componenti istituzionali devono avere il coraggio di guardare a questa tragedia con l'onestà il senso del perdono da invocare da noi e dagli italiani onesti che sono la maggior parte ha attraversato e ha andato incontro al suo sacrificio senza senza avere il pensiero al tengo famiglia ha messo il paese al di sopra di tutto quanti oggi hanno questo approccio noi ce l'abbiamo lo sapete perché abbiamo perso tutto abbiamo la felicità diceva un cantautore che sono sicuro pochi conoscono Franco Fanigliulo noi abbiamo la felicità di avere perso tutto non solo il congiunto ma anche la verità e chi più di noi ha attraversato questo dolore e nonostante tutto abbiamo sempre avuto e avremo fino alla fine dei nostri giorni il rispetto per tutte le istituzioni ma è giunto il momento che attorno a Paolo Borsellino non ci siano divisioni e noi sicuramente quello che ci ha offeso più di tutti in questi anni la cosa che ci ha devastati è pensare che la sua famiglia nucleare non sia stata lì ad implorare la verità non è così quindi cosa succede la Sabatino ci parla della telefonata che si fanno con Borsellino il 29 di sera di giugno perché si fanno questa telefonata perché la Sabatino era passata in ufficio perché doveva parlare con Borsellino ma Borsellino quel giorno era iperoccupato e quindi si sentono poi la sera perché è lo stesso dottor Borsellino che chiama la Sabatino le giudici Sabatino erano due la dottoressa Vincenzo Sabatino e poi pure c'era anche la sorella guardate cosa dice questo ma la dovete consentire questa lettura la trovate ovviamente tra le audizioni della dottoressa Sabatino o rese al CSM del 1992 il 30 luglio del 1992 un'altra cosa vorrei vorrei la Sabatino che parla la vorrei ricordare perché mi impressionò pure eravamo era un giorno della fine di giugno e la mattina nel corso della mattinata io ero andata nella sua stanza per parlargli non ricordo più di cosa ma niente di importante non lo trovai nella stanza ritornai dopo un po' non c'era ancora e chiesi chiesi dove fosse un commesso mi rispose che era dal procuratore e poi lo trovai nella stanza nella tarda mattinata era già oltre l'una saranno state l'una l'una un quarto l'una in venti e siccome era impegnato perché c'erano delle persone io gli feci soltanto un cenno e gli dissi ci sentiamo dopo poi lui mi telefonò gli ho parlato e mi ha impressionato il tono il tono di voce perché era proprio molto molto abbattuto e puntini puntini altra voce è un membro della commissione del CSM che si ricorda approssimativamente il giorno a sabatino si era sicuramente fino a giugno era fine giugno se 29 giugno e lunedì o 28 o 27 stanno no in questo momento davvero non mi ricordo sabatino non me lo ricordo perché non c'era un motivo particolare io proprio mi ricordo che quella sera rimasi impressionato dal tono di voce che non era usuale e quindi lui mi ha detto mi ha chiesto quasi scusa ha detto non ti ho potuto telefonare oggi ma figurati gli ho detto non era niente di importante poi ci vediamo mi disse però che il giorno dopo doveva partire forse per Roma effettivamente Paolo Borsellino il 29 e il 30 e l'1 luglio risulta essere a Roma a interrogare Gasperi Mutolo e Leonardo Messina assieme al dottor Vittorio quindi si stabilisce nel corso delle domande che il giorno era il 29 e allora qui abbiamo la parte in cui dice poi io per fargli una battuta gli disse piuttosto Paolo so che oggi sei stato in buona compagnia con il capo e lui anziché rispondermi in tono scherzoso ha continuato sullo stesso tono e mi ha detto una cosa che mi aveva impressionato un po' perché mi ha detto ah oggi è stata una cosa brutta e ci sono stati momenti in cui mi sembrava di essere tornato ai vecchi tempi di quelli peggiori e ha poi troncato il discorso dicendo vabbè poi ti conto cioè vabbè poi ti racconto poi dice non ho più visto eccetera eccetera quindi quindi Paolo Borsellino in quella giornata del 29 oltre a risolvere il problema deve contrattare col suo procuratore quale formula organizzativa adottare per ottenere in qualche modo la gestione del fascicolo relativo a Mutolo e arrivano ad una conclusione alquanto bizzarra cioè la titolarità resta in capo a Vittorio Aliquò e a dottor Guidolo Forte e al dottor Giacchino Natoli i quali appena scrive Giammanco si coordineranno con il dottor Borsellino il dottor Borsellino che conosceva anche lui le formule organizzative dice ma ma che significa si coordina sono titolare o no devo andare a raccogliere l'interrogatorio posso io dare deleghe di indagini non le posso dare devono riferire a me insomma era una formula assolutamente nuova che comunque non aveva alcun significato non aveva alcun significato e infatti il dottor Borsellino si reca ad interrogare Mutolo il primo giorno va lì e quello lo vede arrivare dice no io non parlo con Aliquò no lei deve parlare infatti verbalizzano in modo tale da non offendere giustamente il dottore Aliquò e dicono io parlo sono disposto a parlare anche in presenza del dottore Aliquò ma chiaramente tu stai mettendo il collaboratore nelle condizioni di non parlare se vuoi proprio francamente saperlo se ti comporti così successivamente gli ultimi due interrogatori sono uno il 16 e uno il 17 e lì succede una cosa secondo me incredibile e cioè arrivo all'assegnazione formale del fascicolo il 18 luglio mattina e poi io sono stanco pure ok quindi finiamo questa parte relativa all'assegnazione del fascicolo a Mutolo cosa succede succede che vanno lì il 16 e il 17 in compagnia del dottor Guido Loforte e del dottor Natoli e il dottor Borsellino ci dice il dottor Loforte ci lo conferma anche il dottor Giacchino e dice guardate con loro è come se lei parlasse con me parli anche di fronte a loro stia tranquillo non c'è problema e quindi fanno l'interrogatorio però c'è sempre questa benedetta formula organizzativa per cui il dottor Borsellino in realtà è quasi un intruso da dentro tant'è che a un certo punto Borsellino il 17 mattina si incavola e dice interrompo l'interrogatorio questo emerge dai verbali e questo noi non l'abbiamo mai saputo da nessuna parte dice io non voglio fare lo specchio per la loda o per nessuno qua o entro come titolare del fascicolo o non entro tant'è ecco allora che intervengono il dottor Loforte e il dottor Natoli ci pensiamo noi parliamo noi con Gianmarco fanno la telefonata questo il 17 fanno la telefonata e dice Paolo non c'è problema avrai la delega io considero con tutto rispetto per l'amicizia con cui magari il dottor Loforte e il dottor Giacchino Natoli l'hanno fatto io considero estremamente umiliante che due più giovani magistrati debbano chiedere al capo di intercedere per un procuratore aggiunto dello spessore di Paolo Borsellino questa è una mia diciamo considerazione che vi rassegno e prendetela per quella che è allora allora cosa succede? succede che Paolo Borsellino deve tornare a Palermo nel primo poveriggio e Natoli e Loforte continuano l'interrogatorio la mattina del 18 cioè un giorno prima della stagia Paolo Borsellino ha finalmente la delega formale e questo ce lo dicono due testimoni qualificati che sono il dottor Vittorio Teresi e la dottoressa Principato e poi ce lo dice un elemento oggettivamente importante fattuale nella borsa di Paolo Borsellino il 19 luglio ce lo dice il dottor Vittorio Aliquò nel verbale della commissione vi era il fascicolo di Mutolo quindi Paolo Borsellino andò la mattina a prendersi il fascicolo una volta ottenuto l'assegnazione e se lo trovano nella borsa di Paolo Borsellino così come da verbale di sequestro cui fa riferimento Vittorio Aliquò nella sua audizione in commissione ma soprattutto ripeto valgono le dichiarazioni di Vittorio Teresi rese in commissione e rese davanti alla procura della Repubblica di Caltanissetta e valgono le dichiarazioni della dottoressa Teresa Principato scusate Paolo ci disse che finalmente aveva avuto la delega su fascicolo Mutolo e questo e concludo depotenzia tutte quelle ricostruzioni volte ad attribuire alla telefonata del 19 luglio del 1992 la composizione della querelle legata all'assegnazione formale del fascicolo di Gaspare Mutolo grazie avvocato io vorrei sicuramente dire una sola cosa perché non credo che ci sia molto da aggiungere per poi riprendere questa audizione in una data concordata il prima possibile perché si possa concludere perché i commissari possano fare le loro domande e cioè vorrei chiedere credo che noi dovremmo chiedere perdono se non siamo riusciti in tutti questi danni a dare una risposta alle tante domande che fin qui ci avete posto e lo avete fatto con sofferenza e amore che ci avete trasmesso abbiamo sentito il cuore batterci nei timpani e quindi riprendendo quello che diceva all'inizio vorrei che di questa commissione non si avesse mai a dire che non si è fatto quello che si doveva fare grazie a tutti